Nella seduta del Consiglio regionale del 12 giugno, il difensore civico regionale Antonio Caputo ha illustrato all'Assemblea la relazione annuale dell'attività svolta nel corso del 2011. Le richieste di intervento sono pervenute al difensore civico da tutte le province del Piemonte. Il 79% da Torino, il 2,5% da Alessandria, il 2,3% da Cunio, il 2,2% da Vercelli, l'1,6% da Novara, l'1,4% da Assi e Dcio e l'1,3% da Biella. Nel 2011 c'è stato un elevante incremento dei casi trattati, oltre 1208, con un incremento esponenziale rispetto agli anni precedenti. Si tratta di casi riferiti a pluralità e generalità di utenti nell'interesse generale della comunità e ovviamente in quanto si tratta di essere intervenuti a favore della generalità degli utenti.